Salve, sono Amos Magaddino, mi occupo di naturopatia, mi occupo di yoga, mi occupo di sostegno emotivo e tutta una serie di tecniche di massaggio utili a ristabilire l'equilibrio del sistema osteoarticolare. Oggi volevo proprio parlarvi in breve di cosa sono queste materie e come potete, diciamo, soffrire dei miei servizi. La naturopatia è una tecnica che si occupa di curare letteralmente le persone che stanno male o chi desidera semplicemente raggiungere il benessere anche attraverso il dimagnimento, attraverso la correzione di un'alimentazione, attraverso l'uso di erbe, insomma tutto ciò che è in armonia con la natura. Infatti naturopatia significa natural path, cioè il percorso secondo natura o il percorso della natura. Io aiuto proprio le persone dopo una breve visita, che sarà di che tipo? Una visita soprattutto iridologica, cioè vado ad analizzare attraverso una lente di ingrandimento e una lucina quella che è la forma dell'iride, dopodiché per controprova utilizzo anche una tecnica di riflessologia, esattamente la riflessologia plantare. Guardando, facciamo finta che questo sia un piede, guardando i segni sul piede, io vado a fare tutti i miei calcoli e i riferimenti alla salute e il benessere degli organi. Attraverso la naturopatia è possibile curare o comunque sia evitare che malattie gravi o comunque situazioni di squilibrio a livello fisico, nonché emotivo, possono essere prese con grande anticipo e di conseguenza sarebbe una buona norma, soprattutto quando si sta bene, quando si è in salute, ogni tanto farsi controllare da un naturopata. Bene, una delle cose più interessanti che noi abbiamo a disposizione per combattere tutto ciò che è contro il benessere è ovviamente l'alimentazione. Io mi occupo soprattutto dell'alimentazione dissociata, cioè faccio in modo che certi alimenti non incontrino degli altri con cui vanno in contrasto. Questo serve per poter raggiungere il dimaglimento, ma quello che il corpo chiede. Inoltre utilizzo la fitoterapia, quindi l'uso delle erbe, dopodiché il massaggio plantare, come dicevo poc'anzi, dove sarà possibile stimolare la forza vitale degli organi attraverso una serie di tecniche di massaggio ben specifiche. È un po' come l'agopuntura, per chi la conosce. Per quanto riguarda altro, mi occupo del sostegno emotivo secondo il concetto di PNL, cioè programmazione neurolinguistica, dove ci si occupa di curare le persone, aiutare le persone a risollevarsi da periodi brutti e comunque di fastidio emotivo, attraverso l'imitazione o l'impiego di strategie psicologiche specifiche. E ancora lo yoga che aiuta ad armonizzare il corpo attraverso l'esercizio sia della mente che del corpo e l'unione di questi due. Quindi quando non stiamo bene, ovviamente non starà bene, nemmeno la nostra mente e il nostro emotivo. Tutto questo, diciamo così, può avere un grande risvolto a livello qualitativo della vita. Quindi non dobbiamo star male per andare con l'autoropata, ma la nostra qualità di vita può aumentare notevolmente se solo ci occupiamo un po' di noi. Ricevo in studio o posso anche fare visite a domicilio. Potete trovare il mio numero e la mia mail direttamente alla fine di questo video, nonché nelle indicazioni che troverete sia sulla pagina di YouTube, nonché sulla pagina di Facebook. È stato un piacere e spero di vedervi presto. Grazie. Ciao a tutti.